Ascoltare e raccogliere quanti più contributi per la elaborazione del nuovo piano territoriale provinciale. È l'intento che si propone l'assessore provinciale all'urbanistica, Vincenzo Falasca, che ha promosso una serie di incontri con tutti gli enti locali. A questa particolare fase della redazione del nuovo piano, ha detto Falasca, la provincia vuole dedicare ampio spazio in modo da poter delineare alcune strategie di intervento che siano ampiamente condivise dagli attori istituzionali che in seguito dovranno attuarle sul territorio. Vale la pena sottolineare di nuovo quali sono le nostre linee guida, sviluppo sostenibile, riduzione del consumo di suolo, limiti definiti per tutte le aree a rischio di dissesto idrogeologico, recupero e valorizzazione delle aree a vocazione agricola. Il nuovo piano propone una chiave di lettura diversa rispetto al passato, aggiunge il presidente Walter Catarra. Abbiamo l'ambizione di integrare nella visione generale del territorio provinciale anche tutte le peculiarità rilevabili in ciascun contesto, facendo riferimento per questo non tanto ai soli caratteri geografici o alle specificità economiche e sociali, quanto piuttosto alla presenza di fenomeni storico-urbanistici, alle dinamiche di sviluppo in atto, alle varietà del paesaggio e, in definitiva, alla consuetudine di lavorare insieme da parte delle amministrazioni pubbliche e alla progettualità in atto sul territorio. Gli incontri si svolgeranno nella sala del Consiglio provinciale a cominciare da lunedì prossimo e saranno presieduti dal presidente Walter Catarra e dall'assessore Falasca e di volta in volta interverranno i componenti del gruppo di progettazione e i professionisti e i tecnici del settore urbanistica e pianificazione territoriale.